Oggi impareremo a ingrandire un'immagine mantenendo il più possibile la risoluzione con tre metodi diversi in Photoshop. Ciao a tutti e bentornati. Ingrandire un'immagine può essere un'azione che è molto utile soprattutto se si ha una foto come questa in JPEG con una risoluzione bassa che adesso andremo a vedere per ottenere un file più da stampa ad esempio o comunque da presentare un pochettino meglio. Vi dico sin da subito che ovviamente per avere un risultato migliore è sempre meglio avere il file originale quello a risoluzione piena così come scattato. Ma in questo caso stiamo simulando una situazione in cui questo file originale non c'è e siamo costretti a ingrandire l'immagine. Fino a qualche anno fa per farlo non c'erano molte possibilità o meglio c'era qualche programma di terze parti che forse poteva essere inserito anche dentro Photoshop come plugin ma i risultati non erano mai propriamente buoni. Con Photoshop quindi andremo a vedere un primo metodo un po' più vecchio rispetto a quelli successivi che andrò a farvi vedere e che si avvale di una determinata tecnologia. Prima di tutto quello che dobbiamo fare è andare nelle impostazioni di Photoshop e cliccare su Anteprime Tecnologia. Qui dobbiamo attivare, attiva, mantieni i dettagli 2.0 ingrandimento. Infatti cosa dice sotto? Ingrandite le immagini con l'aiuto delle tecnologie di ingrandimento assistite da intelligenza artificiale. E vi precisa pure, per attivare l'opzione selezionate attiva mantieni i dettagli 2.0 ingrandimento da preferenze Anteprime Tecnologie e per utilizzare scegliete immagine, dimensioni immagine, quindi mantieni i dettagli 2.0 eccetera. Quindi è proprio quello che andremo a fare. Adesso lo attiviamo, spingiamo OK, andiamo a vedere la dimensione dell'immagine prima di tutto e scopriamo che è una 1080x1350 a 72 pixel per pollice. Un'immagine veramente piccola, adatta forse per Instagram. Infatti, annulliamo un attimo, andiamo a vedere più nel dettaglio. Già se zoomo, ecco qua che escono i pixel. Sicuramente una foto con cui ci si può fare veramente poco. Ma torniamo su dimensione immagine. Attiviamo quindi ricampiona, mantieni i dettagli 2.0 e andiamo a mettere un valore sicuramente più grande rispetto a questo 1080. Andiamo su una cifra tonda, ad esempio 3000. Ovviamente l'altezza, che è maggiore alla larghezza, arriva a 3750. E andiamo a vedere cosa ha fatto, prendendo in considerazione l'occhio, che forse è uno degli elementi più dettagliati che si vanno a notare in un primo piano. Se teniamo spinto con il tasto sinistro del mouse, vediamo la foto come era prima. Se la lascio, ecco l'anteprima di come verrà. Vedete che è molto migliore, la ingrandisco ancora. Clicco di nuovo. Guardate i pixel della foto iniziale rispetto a quello che sarà il risultato finale. Possiamo anche decidere di ridurre il disturbo dato da questa funzione. Però mi raccomando, non insistete troppo perché se aumentate ad esempio al 100%, guardate l'immagine come è smussata e impastata. Vi consiglio di partire da zero e salire piano piano fino a quando non avete il risultato migliore. Io mi attengo sempre intorno ai 15, 16, 17 punti percentuale. E infatti anche in questo caso è l'ideale. Spingiamo OK. E guardate quanto si è ingrandita l'immagine. Posso zoomarla molto di più e avere un dettaglio sicuramente maggiore rispetto a prima. Questa foto non la stamperò mai così grande, ma così è già molto molto meglio. Guardate come ha mantenuto ad esempio i dettagli dei capelli. Andiamo a vedere. In una situazione normale, qui si sarebbe impastato tutto quanto, avremmo perso il singolo capello. Però adesso li possiamo ancora vedere e mantenere una risoluzione adatta, ad esempio, ripeto, per la stampa. Ritorniamo su dimensione immagine e controlliamo che appunto è 3000x3750 a 72 pixel per pollice. Se vogliamo andare a vedere quanto potrebbe essere grande la stampa, leviamo ricampiona, mettiamo 300 pixel, che è la risoluzione per stampa, e vediamo che è 25 cm x 31 abbondanti. Veramente niente male. Ma torniamo indietro adesso. Riportiamola alla dimensione immagine precedente, 1080x1350. E andiamo a usare le nuove tecnologie che ci mette a disposizione Photoshop. Andiamo quindi sui filtri neurali. E qui troviamo Super Zoom. Lo attiviamo. E sulla lentina possiamo dire a Photoshop quanto deve essere ingrandita questa immagine. Ad esempio, noi andiamo a 4x, si può arrivare fino a 16x, ma non ve lo consiglio, perché poi è veramente un'immagine finale. E poi ci metterà moltissimo tempo a rigenerarla. Quindi andiamo a 4x. Vedete che anche in questo caso ci mette circa 15 secondi. E andiamo a vedere come è andata la nostra elaborazione. Devo dire molto molto bene. Proviamo a rimuovere gli artefatti JPEG. E guardate come ha ripreso l'immagine. Forse ha smussato un po' troppo. Quindi qui sta a voi capire quando usarlo oppure no. Ad esempio, in questo caso forse non era necessario. Quindi lo levo. E ridiamo un po' di texture a tutta la pelle. Si può anche aumentare la riduzione del disturbo. Con questa immagine forse non serve tantissimo, perché comunque è una foto scattata in studio. Però andiamo a vedere quello che fa. Mettiamolo un po' più della metà. E infatti ha smussato tantissimo l'immagine. Non è assolutamente il caso di usarla nel nostro esempio. Lo riportiamo indietro. Proviamo ad aumentare la nitidezza. Sempre un po' più della metà, giusto per capire esattamente come lavora. E in questo caso devo dire che un po' ci ha aiutato. Perché se poi lo andiamo a vedere nel suo insieme, possiamo apprezzarne le capacità. C'è anche la possibilità di migliorare i dettagli del volto. Quindi andiamo a cliccare. Magari zoomiamo pure. E in effetti ha tirato fuori un po' di più la texture. Riduciamo l'immagine. E quello che è riuscito ad elaborare questo filtro numerare, ovvero Super Zoom, è un'immagine veramente ottima. Certo, ripeto, non sarà mai come l'originale a piena risoluzione, però ci ha aiutato tantissimo. Spingiamo OK. Riportiamo la grandezza normale. E vediamo quanto l'ha ingrandita. Guardate a quanto siamo arrivati. 4320 x 5400 a 300 dpi. Veramente tantissimo rispetto alla precedente soluzione. Spingiamo OK. E adesso andiamo a vedere un terzo metodo che in realtà sarebbe più un metodo bonus che vi sottopongo. Perché? Andiamo a prendere Bridge. E ci occupiamo di nuovo della nostra immagine originale. Vedete, è a 1080 x 1350. In questo caso, se entro dentro il filtro Camera Raw, ho a disposizione, con il tasto destro, l'opzione Migliora. Questa la ingrandirà fino a 4 volte. Infatti, se tengo spinto Super Risoluzione, qui già ho un'anteprima di come verrà, ho la possibilità di avere un risultato diverso dal precedente, salvato in DNG, lo specifica pure qui, e se clicco con il tasto sinistro vedo come era prima e come dopo. Vedete che c'è un lieve miglioramento anche dei dettagli. Andiamo a vedere come si comporta. Ci ha messo veramente poco perché il JPEG era già piccolo di suo, ma se dovessimo andare su un RAW, ad esempio, potrebbe impiegarci anche un minuto o poco più. Zoomiamo leggermente e scopriamo che anche qui ha lavorato molto bene. Vi faccio vedere che adesso stiamo a 2160 x 2700 pixel, ovvero 5.8 megapixel, rispetto a prima, 1080 x 1350 a 1.5 megapixel. Veramente diverso il quantitativo di qualità a disposizione. Questa tecnica può essere usata anche con delle foto RAW, anzi, soprattutto con delle foto RAW, perché nasce specificatamente per lavorare questo tipo di immagini. E vi ho portato un altro esempio, questa volta non un ritratto, ma un semplice scorcio di Roma, dove l'immagine originale è a 12.2 megapixel. Ora, se ad esempio volessimo prendere solamente quest'area qui, perché ci sembra molto particolare, molto carina, dobbiamo sicuramente andarla a ritagliare. Lo facciamo velocemente. Diciamo così, così prendiamo anche il riflesso. E vedete che siamo arrivati a 3.8 megapixel, un'immagine veramente piccola, che per la stampa è sia adatta, perché comunque rimane sempre a 300 punti per pollice, ma non possiamo avere una stampa poi così grande. Quindi, torniamo indietro, riportiamo l'immagine all'originale, e con il tasto destro facciamo di nuovo migliora. Sempre supera risoluzione, e attendiamo. Dopo circa 10-15 secondi, anche in questo caso, siamo riusciti ad ottenere una foto molto più grande, perché è 48.8 megapixel. Quindi, andiamo a fare lo stesso ritaglio di prima, e vediamo che adesso abbiamo 17.7 megapixel, più del quadruplo rispetto alla precedente, ovviamente perché abbiamo ingrandito di 4 volte l'immagine. Se avete la necessità di prendere solamente un'area della foto che avete scattato originariamente, questo strumento può venirvi molto in aiuto. Ricordo ancora una volta, fino alla nausea, anche con il rischio di sembrare troppo ripetitivo, è sempre meglio scattare la foto originale già fatta bene, cioè già con il ritaglio. Se avete a disposizione uno zoom, usatelo zoom. Se avete a disposizione un teleobiettivo, usatelo invece di prendere un'immagine più ampia e poi ritagliarla. Il risultato sarà sempre migliore. Ma se proprio non avete avuto la possibilità di fare questo tipo di scatto, ecco che Migliora di Camera Raw vi viene molto in aiuto. Quindi, ricapitolando, abbiamo a disposizione tre strumenti fantastici, ovvero la dimensione dell'immagine con Mantieni Dettagli 2.0, i filtri neurali con il Super Zoom e poi il miglioramento tramite Camera Raw che ci permette addirittura di andare a fare un ritaglio di questo genere. Spero che questo video vi sia stato utile e se avete domande scrivetemi nei commenti. Vi ricordo che potete sempre supportarmi cliccando sul pulsante grazie o abbonandovi al canale e che sono sempre a disposizione per delle lezioni private online per le quali potete richiedere informazioni sul mio sito www.fabriziopavia.com Guardate anche il mio video podcast perché è veramente molto divertente e ci sono tanti consigli utili tra schemi luce e backstage con fantastiche modelle e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!